Andremo avanti perché è una vicenda che merita un approfondimento, cioè bisognerà far... i Terramani hanno già ben chiara la vicenda, mentre un ufficio del comune rinnovava il contratto, altri uffici, altri assessorati praticamente dicevano che non doveva essere più in affitto quel locale ma lì doveva partire un cantiere. Le due cose non collimano, quindi abbiamo uffici che non si parlano, assessorati che non si parlano. Il problema per noi però è sempre quello politico, e anche tecnico erariale perché per questo il comune si è ritrovato meno fondi in cassa. Io devo sottolineare due aspetti. Il primo praticamente ho messo in evidenza come ci sia una grande mancanza di democrazia, di trasparenza, ci è stato rifiutato uno strumento tipico dell'opposizione, forse perché praticamente avevano paura, una maggioranza che ha dimostrato di non essere compatta, di non essere coesa a differenza dell'opposizione e di avere paura nel mostrare tutta quanta la verità. È uno strumento che era indispensabile per noi come indispensabile accedere a molti documenti e devo dire che per la prima volta da consigliere comunale faccio fatica spesso ad accedere perché si chiedono addirittura delle PEC, quindi è un'amministrazione tutt'altro che trasparente, tutt'altro che partecipativa. Una riprova è che le commissioni vengono fatte soltanto in vista dei consigli comunali, quindi non c'è modo di partecipare. La commissione diventa uno strumento così, un proforma, per accedere al consiglio comunale. Invece servirebbe a migliorare la delibera, ad accogliere anche dei suggerimenti da parte di tutti i consiglieri, di minoranze e di opposizione. È un'amministrazione chiusa che non si confronta.